Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio Tecne Dire Monitor Italia sulla fiducia nel governo. Scende dell'1,9% la fiducia nel governo nell'ultima settimana, ora si attende e si attesta al 50,8% e quanto emerge dal sondaggio con interviste effettuate il 16 e il 17 marzo 2023 su un campione di mille persone sale la quota di chi non ha fiducia pari al 42,3% degli elettori con un aumento del 2%, gli indecisi raggiungono quota 6,9% in discesa dello 0,1%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.